Gianna mi stai conclinizzando la mano Le canzoni sono tue, le canzoni ti seguono Le canzoni ti fanno sentire qualcuno o ti fanno sentire qualcosa in un momento importante della tua vita Molte canzoni era presente in un momento della tua vita Certe cose le puoi fare solo se hai ascoltato certa musica nella vita I afrobrigado esistono da sempre ed esisteranno per sempre Due fratellotti, una sola anima A presto! 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 Allora ragazzi questo è un progetto nato dalla voglia di scatenare i propri influssi creativi e boh niente se non vi piace vi spacco il culo suolatissimo nel a partarlo la luce da parto di il caro a merbidizi erano avani non c'è nero non c'è nero c'è quanto affubbligato vai uomo astro affubbligato 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 affubbligato